Periodicamente e sempre di più Pompei ci rivela nuove scoperte, scoperte meravigliose e si conferma uno straordinario scrigno di tesori. Ecco perché noi in legge di bilancio abbiamo espressamente rifinanziato gli scavi a Pompei dove adesso sono attivi tantissimi cantieri che giorno dopo giorno portano all'attenzione generale nuove meraviglie. Dopo la conclusione del grande progetto Pompei noi vogliamo dare un assetto organico, un assetto stabile a questo meraviglioso sito che ogni giorno fa registrare decine di migliaia di visitatori.